La DIA, la Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria, ha arrestato l'ex ministro Claudio Scaiola in un albergo della capitale. Gravissime le accuse, non solo aver cercato di favorire la fuga dell'ex parlamentare Amedeo Matacena, ma anche aver usato i contatti dell'ex ministro di Forza Italia per permettere l'evasione di ingenti quantità di denaro attraverso la creazione di società fantasma riconducibili a Matacena e alla moglie. Spiega un investigatore. L'intenzione era quella di farlo arrivare in Libano, dove avrebbe potuto godere dell'asilo politico. E questo grazie ovviamente a tutti i suoi, alle conoscenze dell'ex ministro, sia ambienti politici che economici. Matacena si era rifugiato negli Emirati dopo essere fuggito dall'Italia. Arrestato e poi rilasciato avrebbe cercato di arrivare in Libano proprio con l'aiuto di Scaiola, dove sarebbe stato al sicuro dall'arresto per la condanna a 5 anni subita per concorso esterno in associazione mafiosa.